La polizia di Stato di Gela ha arrestato un 23enne incensurato per detenzione di stupefacenti e armi clandestine. L'uomo a bordo di una Fiat Panda non si è fermato all'alto della polizia sulla strada statale 117 bis tentando di investire un agente. È stato fermato in via San Valentino dopo aver cercato di speronare un altro veicolo della polizia all'interno dell'auto. Trasportava un chilogrammo di hashish nel suo domicilio. Sono state trovate due armi e munizioni. L'arresto è stato convalidato e il giovane è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini sono ancora in corso.